Ciao amici! Come sapete siamo volontari di una fondazione di Milano che si chiama Mission Bambini. Come ogni anno, a Natale, raccogliamo fondi per far operare dei bambini malati di cuore. In particolare quest'anno vogliamo raccogliere 1.500 euro per far operare un bambino che aveva venticardiopatico. Ci date una mano? Grazie! Che c'è pizza? Grazie a tutti!